Oggi porto alla vostra attenzione una potenziale forrode su vasta scala che si sta verificando nella vostra contea. Ci sono prove evidenti che la NASA utilizza numerosi metodi per forviare grossolanamente il pubblico sul fatto che gli astronauti siano nella Stazione Spaziale Internazionale. Durante le scene all'interno delle SS e dal vivo della NASA usano cablaggi, fili, schermi verdi e realtà virtuale che sono stati rilevati per ottenere l'aspetto di un ambiente senza peso. Esempi di questo includono gli astronauti che entrano e escono dallo schermo con difetti dello schermo verde, afferrano oggetti che in realtà non sono là, tirano fili invisibili aggrovigliandosi nelle loro imbraccature e persino astronauti che appaiono dal nulla. Questo fa sorgere l'ovvia domanda. Se sono veramente lassù, perché utilizzano le tecniche di Hollywood per falsificare i filmati? Sfortunatamente non posso mostrarvi queste clip adesso, ma lo farò e ve li invierò. Andiamo avanti. Muovendosi all'esterno o all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, durante le passeggiate spaziali i bollicini sono state registrate in numerose occasioni. Com'è possibile che siano presenti bollicine d'aria nel vuoto dello spazio? Una volta interrogato l'astronato Scott Kelly su questo fenomeno, il suo linguaggio del corpo e le sue risposte hanno semplicemente creato ulteriori domande. Nel 2013 l'astronato Luca Pramitano è quasi annegato durante una passeggiata spaziale quando il suo casco si è riempito d'acqua. Questo è successo di nuovo proprio l'anno scorso. Bollicine d'aria, caschi che si riempiono d'acqua e annegamenti. Sono nello spazio o sono sott'acqua? Ciò che è veramente interessante, si allenano per le passeggiate nello spazio in una piscina sott'acqua con la replica completa degli ISS. Sicuramente non stanno filmando queste passeggiate spaziali in una piscina sott'acqua per poi modificarli in modo che sembrano siano nello spazio, perché sarebbe sicuramente qualcosa, non è vero? Dispongo i commissari della Conte di Brevar per aprire un'indagine completa sulle pratiche fraudulente della NASA e sull'uso dei dollari dei contribuenti. Costa la NASA 3 miliardi di dollari all'anno per far funzionare gli ISS e se non hanno un'esplicazione dannatamente buona sul motivo per cui stanno falsificando questi video, io e il pubblico vorremmo una spiegazione maledettamente buona su dove finiscono i soldi delle tasse. E se stanno veramente fingendo il tutto, è nostro dovere smascherare ed eliminare questo programma fraudulento della ISS e astronomicamente dispendioso. E guardate, so cosa state pensando tutti. La NASA fa parte del governo federale e voi siete solo commissari di Contea. Anche se quello che sto dicendo è vero, cosa potete fare? Vi ricordo che non sta accadendo solo nella vostra Contea di York, in quanto come funzionari pubblici avete la piattaforma e la capacità di fare una dichiarazione, ottenere una conferenza stampa, allertandolo Stato pubblico e le autorità federali per indagare ulteriormente.